per competere, quindi insieme low cost per competere sul territorio. Le reti d'impresa, un altro tema nel quale vogliamo lavorare, sempre con la stessa mission, quindi insieme per cooperare e per competere. E poi ancora abbiamo iniziative filantropiche per creare un'area bambini per il pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Insomma, voglio dire, siamo assolutamente trasversali, lavoriamo principalmente a sostegno dell'imprenditoria, ma non vogliamo esimerci anche dal prendere in considerazione iniziative benefiche, sociali, l'innovazione sociale è un altro tema sul quale lavoreremo quest'anno, quindi insomma tanti temi che meritano di essere sviscerati al meglio e meritano sicuramente un approfondimento da parte nostra.